Sta in streaming, sta in streaming, l'unica cosa che puoi dire è questa, perché io non posso apparire, che praticamente il wifi che c'è, noi siamo sul 3G, purtroppo nella sala il 3G cade. Le riprese non sono buone? No, a parte le riprese, non è solo un fatto di riprese, è che il wifi impedisce l'utilizzo dello streaming, non so perché, è solo un'applicazione streaming. Cioè il wifi libero qui ma... A chi mi ricordo? A chi ci sta guardando perché ci stanno guardando. Cari amici che ci state guardando, vi comunico che il wifi della regione impedisce una corretta transmissione, streaming delle immagini. Quindi siamo sulla rete cellulare, ci scusiamo gli eventuali incontri. Le conseguenze che abbiamo e ci scusiamo della cattiva qualità delle immagini. No, invece prima ero entrato nella sala e gli altri ragazzi del 5 Stelle oggi hanno portato simbolicamente una prescatole, vuoi spiegare il perché di questa? Perché magari non si è visto perché è caduta la... Se non l'avete visto vi informo che anche i nostri rappresentanti regionali hanno portato in regione la prescatole che come sapete è il simbolo di quanto noi e loro intenderanno fare nell'ambito dell'istituzione e quindi di rendere trasparente questa istituzione a voi tutti e a noi tutti che seguiremo questo loro impegno dal di fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta. Vai Emiliano. Adesso ripeto a Marcello. Faccio le ripeto a Marcello. Ah, se c'è Marcello può parlare adesso in diretta. Dove, 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 dove? Sta lì ancora parlando. La Marcello è lì. Dove è lì? È assaltato dai giornalisti. Adesso vengo e ne gli facciamo due parole. Marcello è lì. Aspetta che non direi qua adesso, no? Non c'è Maurizio Argentieri, no? Si. Ok, viro. Si. Ok, viro. Si. Ah, c'è vero. Ok, viro. Si. Ma non è ancora un po' perciò che non s'è? Si. 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 Si mi. In questo momento siamo all'esercito del Consiglio regionale del Lazio Attendendo che il candidato sindaco, Marcello De Vito Che oggi è in visita Si è in visita per gli altri ragazzi Che faccia l'accredito e possa venire con noi per partecipare a questo evento C'è una visione di questo lavoro, è molto bello, è molto interessante Marcello Sei in diretta, Marcello Parla forte perché qui c'è un delirio, non so come ti sento Ciao a tutti Sono qui all'insediamento alla regione Sono contentissimo perché sono stato anche loro delegato di lista Quindi per me è un orgoglio vedere che Entrare nel Consiglio regionale persone come Davide, Valentina, David, Silvana, Gaia, Silvia e Gianluca Persone bravissime che faranno un ottimo lavoro Sai che prima li ho visti dentro stavano tutti con l'apri scatole Tutti con l'apri scatole, bene, 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 anche questa sarà una scatoletta di dom Stiamo a vedere Noi possiamo rientrare da di là? Sì, noi possiamo rientrare da di là Proviamo a vedere se la connessione regge perché non so Qui poi, sì, quando Questa è una scatoletta di scherzo dove non è in mezzo al cassetto Sì, noi possiamo rientrare da di là Quindi non è ancora uno riportato sul campo Ti bevai Bernarella Gaia Ti prepari Petrangolini Maria Terello Sì, noi possiamo rientrare da di là Ti prepari Petrangolini Maria Terello Ti prepari Quadrano Gianluca Ti prepari Grigini Giancarlo Grazie a tutti